E' successo quello che tutti quanti noi speravamo, nello snapshot uscito oggi, il 23V07A, hanno aggiunto l'archeologia, gli sniffer e come vedete anche i ciliegi. Salve a tutti i Blazers e benvenuti in questo nuovo snapshot della 1.20. Ragazzi, questo snapshot resterà la storia come quello più carico di novità più grande di tutta quanta la versione. Infatti avrete visto i video di questi giorni dove vi ho anticipato le varie novità in arrivo e in questo snapshot le hanno praticamente inserite tutte. Anche se non sono complete al 100%, le possiamo già provare tutte quante con mano e sarà una grandissima figata. Vi chiedo un gran supporto con un like e soprattutto segnatevi il fatto che domani nella survival andremo subito a giocare con queste novità e sempre domani pomeriggio ci sarà una live dove insieme andremo a esplorare il mondo cercando tutte queste cose nuove. Ma partiamo subito perché qui di fronte a noi abbiamo il nuovo bioma raro di Minecraft 1.20, ovvero la foresta di ciliegi, conosciuta nel codice come Cherry Groove e questo bioma lo troveremo nelle zone collinari, quindi non proprio montagna ma comunque un po' sulle alture e come vedete è composto da due particolari principali, ovvero l'albero di ciliegio e i fiori. Questi fiori che vengono non tanto droppati, non sono petali o cose del genere che vengono lasciati dall'albero, ma sono fiori rosa semplicemente, pink petals, quindi dei fiori che sembrano petali di ciliegio ma sono appunto una pianta di per sé. Questo fiore è molto interessante perché permette in un solo blocco di mettere fino a 4 volte il fiore. Quindi se lo metti una volta è così, seconda volta, terza e quarta. Inoltre è direzionabile, quindi se noi ci giriamo possiamo come vedete mettere gli stessi fiori ma con una disposizione diversa. In questo modo possiamo fare dei pattern, ad esempio robe di questo tipo, oppure viceversa potremmo fare cose di questo tipo. Quindi possiamo creare dei pattern particolari utilizzando questi particolari fiori. Se i craftati ci permettono di ottenere ovviamente il colorante rosa e con la bone meal possiamo farli crescere. Quando sono completamente cresciuti droppano con una bone meal un fiore extra e quindi potete capire che le farm si possono fare e sono anche abbastanza semplici. E sicuramente la faremo presto nella survival. Il vero protagonista però è l'albero di fiori di ciliegio, un albero davvero speciale. Questo albero ha un tronco molto scuro, come vedete ha una tonalità leggermente tendente al viola. Infatti se prendiamo il legno di crimson, che si abbina molto bene anche con i plank di questo materiale, notiamo che il log già si abbina perfettamente a questo plank. Quindi già abbiamo una prima combo molto interessante per le build. Altra caratteristica è ovviamente la foglia. E questo blocco oltre a essere per la prima volta un vero e proprio blocco fiorito di foglie, si intende, non il primissimo, dato che avevamo già la zalea, ma insomma direi che questo è molto più fiorito di così, questo blocco oltretutto permette di creare anche queste particelle che piovono dalla pianta. Le particelle sono identiche a quelle dello spore blossom, come vi faccio vedere subitissimo, ma anziché essere verdi sono rosa. Come vedete anche una volta piazzato le particelle iniziano a scendere e qui possiamo vedere in contemporanea quelle dello spore blossom e quelle del ciliegio. Sono identiche, ma di due colori diversi. Questa nuova pianta dà quindi origine a tutto un set di legno, ovviamente di ciliegio. Vi faccio vedere le cose principali, come la versione strippata, il plank, e ovviamente ha tutti i suoi derivati, le porte, le trapdoor, ovviamente abbiamo anche il sapling e anche robe come i barche e hanging sign, ad esempio, che è l'ultima novità. Peraltro prendo anche un attimo la frog light perché vi faccio vedere subito una build hack molto molto bella. Le assi di legno e di ciliegio sono rosa, ovviamente, ma è un rosa molto pastello. Un colore molto acceso, molto fantasy, poco realistico, ma che sicuramente si potrà utilizzare bene in molte costruzioni a tema, o comunque rosa. Che ne so, immagino una città fatta di dolci, una casetta semplicemente che vuoi fare rosa in mezzo a questo bioma, ci sarebbe davvero molto bene. E ovviamente, come vi stavo dicendo, abbiamo la porta. Porta davvero molto carina. Se metti la double door non cambia molto, ma è davvero molto bella anche a vedersi. E la trapdoor, che ha una forma davvero molto interessante. Se voi mettete una frog light e la trapdoor sopra, ottenete già una build hack davvero molto bella. Inoltre i due blocchi si abbinano davvero molto bene. Come vi dicevo, i nuovi hanging sign ci sono anche con la versione di questo legno, che è la versione in questo caso del legno strippata, che è così. Anche questo è davvero molto, ma molto bello. Sembra una mega caramella il legno strippato così. E infine abbiamo anche le barche rosa, che ricordano molto la pelle di un maiale, più che il legno. È molto strana questa barca, devo dire. Il sapling ovviamente permette di far crescere la pianta e può anche essere messo nei pot. Non nei nuovi pot che vedremo tra poco, ma nei pot normali, assolutamente sì. Come tutti gli altri sapling. Passiamo ora invece all'archeologia, perché nei pressi delle piramidi o dei pozzi potremo trovare dei siti archeologici, che in realtà sono semplicemente composti dalla sabbia sospettosa. Questa nuova sabbia la possiamo trovare, ad esempio, nei pozzi al centro del pozzo. Quindi andiamo a togliere l'acqua per comodità e troveremo che sotto, come vedete, ci sono questi blocchi leggermente diversi. Questa è la suspicious sand. La, appunto, sabbia sospettosa o sabbia sospetta, che dir si voglia. Per poter andare a trovare l'oggetto contenuto, dobbiamo semplicemente andare a craftare un pennello, che non si fa più con rame, ma si fa con due stick e tre string. Il pennello può essere utilizzato per spazzolare i blocchi. Ovviamente la sabbia normale non fa niente, tra l'altro ha questa animazione, che è diversa da quella della prima persona. Se andiamo invece ad utilizzare la sabbia sospettosa, succederà qualcosa, ma attenzione che dalla creativa non troverete niente. Quindi cercate un blocco autentico, sponato nel mondo, andate con il vostro pennello e iniziando a spazzolare, troveremo all'interno un oggetto. In questo caso sembrerebbe uscire un normalissimo mattone. C'è un altro blocco, quindi proviamo subito. In questo caso sembra che stiamo trovando uno dei nuovi cocci, per fare i nuovi pot giganti, i decorative pot. E abbiamo trovato un Arms Up Pot Richard. In futuro qui dentro troveremo anche le uova dello sniffer, non si sa ancora con quanta rarità, ma ora tra i vari oggetti che possiamo trovare, si possono trovare anche oggetti più rari, tipo uno smeraldo, forse addirittura diamanti, possiamo trovare appunto queste Pot Richard, che sono esattamente quattro, una con inciso un teschio, una che è quella che abbiamo trovato, una che ha una sorta di gemma, e una che ha il simbolo di un arco. Se noi prendiamo questi Pot Richard, possiamo andare a creare il nuovo pot. Come si fa il nuovo pot? Si fa così. Andiamo nella Crafting Table, mettiamo le quattro shard in questo modo nella Crafting, lasciando uno slot libero al centro, e otteniamo questo Pot. Possiamo anche farne uno completamente senza decorazioni. Per farlo si usano semplicemente quattro Brick in questo modo. Oppure li possiamo fare misti, con solo tre decorazioni, due o una sola in questo caso, tre mattoni, una decorazione, e otteniamo il Pot, che solamente sul lato è decorato. C'è questo lato qui. Quello vuoto non avrà decorazioni su nessun lato, e quello completamente decorato, in questo caso è così, con tutti i vari simboli diversi. Al momento non possiamo fare un granché con questi enormi Pot, se non sapere che se li distruggiamo con la mano si droppa in automatico, idem con Siltach. Se usiamo invece uno strumento tipo un piccone, si rompono e ci ridanno i loro ingredienti, fatti praticamente a pezzi. Si possono ricraftare poi senza perdere nulla. Non possiamo metterci piante né oggetti, vedremo in futuro se avranno un qualche utilizzo. Per ora possiamo solamente creare una bella varietà di questi vasoni giganti e personalizzarli, per usarli nelle nostre basi o dove vogliamo noi. Magari in futuro metteranno più shard di così, per ora ce ne sono quattro, secondo me sono davvero molto poche. L'archeologia è un bene che sia arrivata, ma diciamo che così, mi sa di feature davvero molto piccola, mi aspettavo qualcosa di più da questa feature. Cosa che da una parte si direbbe anche della prossima novità che andiamo a vedere, ovvero lo sniffer, che è molto bello, ma che ha qualcosa in meno rispetto a quello che ci aspettavamo tutti. Quindi andiamo a prendere lo sniffer, che al momento non ha ancora le sue uova, quindi non si può ancora trovare, si ottiene dall'uovo di spawn in creativa, e come vedete abbiamo questo mega sniffer, completo di suoni, animazioni, che è già in grado di camminare in giro, anusare l'aria, e scavare alla ricerca di semi antichi. Questo sniffer ha una sua versione baby, che è semplicemente uno sniffer più piccolo. Si era parlato nelle anticipazioni dello snifflet, quindi una sorta di mini mob alternativo, ma non so dire se sarà questo, o se esisterà un'altra sua versione, per ora semplicemente abbiamo uno sniffer più piccolo, che sembra essere la sua versione baby. Intanto lo sniffer stanno usando il terreno, e probabilmente sta per trovare i semi della pianta antica, che si chiama Torchflower. Noi li andiamo a prendere direttamente dalla creativa, e come vedete abbiamo sia la pianta, che i suoi semi. Che cosa sono questi semi di Torchflower? Sono dei semi che possiamo piantare solamente nelle farmland, e ottenere così questa sorta di piantina che fluttua, peraltro, è un po' sballata. Passando il tempo, se c'è l'acqua e tutto il resto, crescerà, oppure semplicemente con la bone meal, possiamo vedere le varie fasi della crescita, fino ad arrivare alla pianta fatta e finita, che potrà essere raccolta, con le mani in survival, e ripiantata dove vogliamo noi. Questa pianta è praticamente una sorta di fiore decorativo, dall'aspetto preistorico. E so già che domanda mi farete. Ma Eren, abbiamo visto l'altro giorno i leak delle piante antiche. Dove sono finiti? Non lo so. Il leaker è un leaker assolutamente autentico. Ha anticipato l'uscita di archeologia, mob vote, spoilerando i nomi e il tipo di mob prima che uscissero. Quindi è un leaker che sa il fatto suo, non ha mai detto balle. Ed è molto strano che abbia postato un'immagine del genere senza dire il vero. Quindi che cos'erano quelle piante che abbiamo visto nel video del leak. Al momento non lo sappiamo. Potrebbero essere altre piante antiche che verranno aggiunte dopo, oppure delle versioni beta della pianta antica che sono state scartate e che in qualche modo il leaker pensava fossero definitive. Al momento non lo sappiamo. Appena se ne saprà qualcosa di più, ovviamente vi aggiornerò. Devo dire che per ora lo sniffer in questo modo, con solo questa pianta, mi ha un pochino deluso. Mi aspettavo qualcosa di più, ma come detto, tutte queste aggiunte sono agli inizi e nel corso delle prossime settimane sicuramente amplieranno le feature aggiungendo altre cose. Passaggio importante che vi voglio citare invece della pagina ufficiale sul sito di Minecraft è il fatto che, parlando dello sniffer, lo definiscono il primo dei mob antichi, come se ce ne fossero degli altri. Ora, non penso che nella 1.20 vedremo mob antichi, ma il fatto che sia il primo dei mob antichi lascia pensare che magari in futuro ne potrebbero aggiungere degli altri. Magari nello stesso modo, o magari, chi lo sa, tramite una dimensione antica accessibile dalle città antiche, che hanno un portale che al momento è lì a far niente. Procedendo, ci sono poi un sacco di novità di tipo tecnico, bug fix e varie cose di questo genere. Ma vi voglio citare tra tutte un cambiamento importante che riguarda i jukebox. Quando noi abbiamo un jukebox, possiamo connetterlo a una striscia di redstone di 15 blocchi, quindi abbiamo 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, se non ho fatto male i conti. Quindi, mettiamo il jukebox, la lampada dall'altra parte, il jukebox attiverà un segnale di redstone lungo 15 blocchi quando alimentato da un disco. E quindi, come vedete, la lampada si accende. Cosa molto utile per fare passaggi segreti e ovviamente prima o poi ne faremo uno. Togliamo il disco, possiamo vedere un'altra novità, ovvero il fatto che ora tramite dispenser o tramogge possiamo andare a interagire con il jukebox e quindi caricarlo o scaricarlo dai dischi. Cosa che non c'era mai stata, molto utile sicuramente anche per eseguire in automatico la musica che ne so, all'ingresso di una stanza piuttosto che come soundtrack di una mappa. Cosa interessante di questa novità è il fatto che se usiamo un comparatore dietro il jukebox il jukebox farà un segnale diverso per ogni disco che viene utilizzato. E con questo per ora è tutto. Spero di non aver perso nessun dettaglio di queste novità principali perché come detto altre novità tecniche ci sono, sono tantine ma non ho il tempo materiale per dirle tutte perché devo chiudere il video e ho un impegno che mi porta fuori casa. Vabbè, un impegno piacevole però comunque devo uscire molto presto. vi volevo comunque fare il video per non farvi mancare le news come sempre e vi ricordo che domani ci vediamo con la survival in video e in live alle 16 per fare una ricerca di queste novità. Non ho ancora deciso se il bioma dei ciliegi o l'archeologia magari ditemelo anche voi nei commenti. Comunque domani ci divertiamo con lo snapshot. Detto questo spero che il video vi sia piaciuto un saluto da Eren ciao a tutti.